Avrei voluto fare un plié, avrei voluto, non sono mai stata brava, l'ho sempre detto, l'ho detto anche in questi studi alla scuola di danza, pregarono di tenere mia sorella e a me dissero, no no Paola può anche non venire più a scuola di danza e allora lì è finita una carriera della quale sicuramente la danza non ha sentito e non ha risentito mentre invece siamo tanto contenti che Rossella Brescia abbia deciso nella sua vita di fare anche Grazie, ben arrivata Rossella, che gioia, ma lascia perdere, è una vecchia storia, ma è una vecchia storia Allora, la danza senz'altro, la capacità di essere attrice, radiofonica tutte le mattine all'alba È lei che ci dà il buongiorno e tante, tante, tante altre cose insieme Noi l'abbiamo fermata con il sale sulla coda tra un viaggio e l'altro Poi ne parleremo, ma di questa nuova commedia che si chiama? Belle ripiene Belle ripiene Belle ripiene è una commedia di Massimo Romeo Piparo Chapeau Chapeau Tra un attimo Rossella Brescia, bambina, che capisce da subito o quasi subito di essere non solo innamorata, ma è qui la differenza Guarda questa fotografia, nata per la danza Allora, quando è sbocciata questa passione? Tantissimo tempo fa, però me lo ricordo benissimo perché non c'era internet, non c'erano youtube, programmi, insomma dove potevi riguardare dei video di grandi teatri lirici a casa comodamente E io vedevo la danza in televisione e mi ricordo che c'era un programma, Maratona d'estate di Vittoria Ottolenghi Tanto di cappello a Vittoria Ottolenghi, quando la danza era in tv con Vittoria Cappelli Come no, come no Con grandi produttori e narratori della danza, andiamo avanti Io mi innamorai di un video che propose lei, era un balletto tratto da Giselle, un passo a due tratto da Giselle Con Baryshnikov e Alessandra Ferri, li vidi danzare e dissi questa è la cosa che voglio fare Io così, hai detto, io come loro Io come loro, ok vabbè, diciamo che quantomeno era nel mio immaginario tutto questo L'immaginario di una bimba nata dove? A Martina Franca, quindi il mio teatro lirico più vicino era a Bari, il Petruzzelli Però insomma non è che c'erano tutte queste possibilità di andare a vedere un grande balletto Anche perché mi dovevano accompagnare, insomma, non era così semplice E poi i miei genitori avevano altro a cui pensare, a mandare avanti una famiglia Insomma non è che vengo da una famiglia aggiatissima Però non mi hanno mai fatto mancare niente Io, Benigna va detto una cosa, io ringrazio i genitori della povertà che mi hanno dato E prendo questa frase, la faccio mia Perché forse è proprio quello che mi ha dato la spinta di combattere, di andare sempre avanti Di dire devo farcela anche se magari non ho tante possibilità Allora, per possibilità Questa è Rossella Per possibilità si intende quel patto leonino che si stringe tra genitori e figli Della serie, prima gli studi e poi la danza Assolutamente, perché poi, insomma, i miei genitori molto pratici Non è che erano lì E ora vedo, giustamente, quando vedi un genitore con una bambina che studia danza Insomma, vedi nel genitore gli occhi che brillano Invece mia madre non gliene fregava niente Se si può dire Eppure, guardate, voglio dire, gli estremi c'erano tutti Sta volando Nella serie devi studiare Devi studiare prima Allora, però, ad un certo punto, studiato, fatto tutto quanto per bene Tutto come si doveva fare Perché Rossella è una donna tenacissima Arrivi a Roma Arrivi a Roma e come nei film C'è un episodio, c'è una prima notte Notte nel senso che si deve dormire Chiaramente in un luogo dove si arriva Ex novo E ne succedono Insomma, questa ragazza coraggiosa si trova in una situazione non la migliore Eh sì, perché dovevo essere ospitata da una ragazza, una mia amica Che purtroppo mi ha detto Ah, guarda, poi non c'erano i cellulari che uno si chiama, si manda un messaggio Guarda, mi spiace, ma non puoi più venire a dormire qua Io alla stazione Termini dalla cabina telefonica Che finivano pure i gettoni, tra l'altro E come no? Vabbè, insomma, disperata chiamo mia mamma Mia mamma per fortuna conosce tutte le suore di tutto il mondo Allora ha chiamato Ha chiamato delle suore fantastiche Che ringrazierò sempre Delle suore, insomma, a Roma Vicino a Santa Maria Maggiore Che mi hanno ospitata E poi da quel momento ho cercato anch'io un rifugio La danza è un... questo lo insegna il tuo compagno Voi siete una coppia bellissima, Luciano Cannito, insomma Nomi di fronte al quale, al quale tanto, tanto di cappello La danza richiede una tenacia e un senso di disciplina, di autodisciplina Che è ancora prima della disciplina stessa Insomma, per la quale puoi anche lasciar perdere molto presto Cioè puoi arrenderti prima Non è stato questo il tuo caso No, perché forse il talento è proprio quello Quello di avere le idee chiare, di portarle avanti E per fare danza devi avere veramente una dedizione alla danza stessa Devi avere una grande disciplina interiore Devi essere rigorosa E questo, devo dire, che faceva parte di me Anche perché sapevo quanti sacrifici facevano i miei genitori Per farmi studiare Quindi non mi potevo permettere nessuna distrazione Questa, diciamo così, questo pensiero Un po' duro, se vogliamo È stato quello che mi ha accompagnato Che mi ha fatto, ovviamente, anche avere tante gratificazioni Perché la danza, sì, è dedizione, è sofferenza Però poi ti dà immense gratificazioni Io mi sono tua Carmen Splendida Grazie No, dove c'era proprio questa interpretazione Che passava, toccava i capelli Arrivava fino alla punta delle tue scarpette Allora, e ogni sera così Ecco, questo è Se è vero che l'applauso Quando ricevi l'applauso Quando hai ricevuto il tuo primo applauso, Rossella Come ti sei sentita? Allora, i miei primissimi Ovviamente ero bambina Forse ero talmente felice Neanche me li ricordo Però quando... Quelli intendo quelli più pesanti Quando interpreti, esatto Interpreti donne come Carmen, no? È un personaggio che mi piace moltissimo interpretare Perché è un po' come me Ha il coraggio delle idee La libertà di una donna che viene fuori Un po' selvaggia Quindi sono un po' così anche nella vita Quindi mi piace interpretare questo ruolo E quando ti arrivano gli applausi È un po' come se tu avessi stabilito Un feeling particolare col pubblico E ti arriva tutta quell'energia Che tu hai comunque dato e donato sul palco L'applauso è un'onda Proprio una cosa che a un certo punto prende Un'onda benevola che prende E ti travolge completamente Ora, test dell'ora solare Chiedo cortesemente alla regia Di inquadrare nuovamente l'ospite Rossella Brescia Come è venuto in mente Ad un individuo di Miss Italia Di Diti Ah! No, scusate, no Che cosa ti ha detto? Eh, non so se si può dire No, dillo edulcorato Edulcorato Sei bruttina Ecco, edulcorato, bruttina Però non mi ha detto proprio questa parola Insomma, si è avvicinato a luoghi Che ci sono familiari anche a casa E che fanno parte delle varie stanze Della nostra abitazione Ma insomma, era un'anima ipercritica Ma perché? Vabbè, perché sinceramente a me non me ne importava nulla Di fare questa No, non ti ne importava niente No, veramente Lo facevo così per gioco Perché c'era stata Miss Martina Franca Allora avevo vinto Dai, vai avanti, vai avanti Quindi era arrivata a Miss Sorriso Puglia E ovviamente Cioè, io non sono una modella E non ho neanche velleità Non ho mai avuto velleità di modella Quindi, ovviamente Tutte queste ragazze erano super abituate Alle passerelle Alle attese infinite Che tu fai per fare magari un'esibizione Una sfilata Cioè, per me era una cosa impensabile Perché non sto mai ferma Neanche un secondo E quindi ero già un po' fuori dal gruppo E è arrivato questo qui E mi ha detto Guarda, ma io non so neanche come tu Abbia fatto a vincere Perché ero un po' fuori da questo giro Capito? Ma scusi, abbia pazienza Anche per una minima forma di cortesia Oltre che di diottrie Ma questo è un altro punto di vista Va benissimo Allora La cosa divertente, bellissima Deve vedere Rossella Che ora è seduta Siamo sedute Stiamo chiacchierando Con le sue scarpine Azzurro cielo E quando la vedi in piedi Perché lei è stupenda Quando sta in piedi Tu metti i piedini Subito in posizione ballerina Non ti sbagli Quando la vedi Se parti dai piedi Non riesco a stare io ferma Capito? Allora devo mettermi così No Posso chiedere alla regia? Sì, posso chiedere Ci alziamo un attimo Allora Io mi metto in piedi E mi metto così No? Così O così Guardate No, ma questa è già la seconda È proprio quando stai così Anche così Ecco Eccola qua È vero Eccola qua Abitualmente Rossella La vedi così E vabbè Perché se no Mi sento che sono instabile Allora devo mettermi nella mia posizione Eccola qua Bellissima Bellissima Bene Ci risiediamo Perché ora andiamo a teatro Perché Allora Non vi porto in radio Anche se voglio dirvi Che in questa lunghissima Tourne teatrale Tutti pazzi per RDS Ogni mattina A partire dalle Dalle 7 alle 9 Dalle 7 alle 9 Con Ciccio Valenti e Bazzoni Assolutamente Applausi e Plausoni Che fa anche rima E quindi tutti colleghi Comunque dall'albergo E riesci in ogni caso A essere presente Quindi il tuo lavoro radiofonico Non lo abbandoni Anche se fai tardi tardi La sera prima Eh Però la sera prima Non facciamo tà È una cosa Devi sacrificarla Non si va a cena Si mangia prima E poi Allora Belle ripiene In scena Con Rossella Brescia Ci sono Tosca d'Aquino Roberta Lanfranchi Samuela Sardo Delle compagne di viaggio Fantastiche Fantastiche Allora Da Si vede Dalla Allegria Sincera Che passa Dal palco Dove accadono Cose Molto particolari Grande è stata Quest'idea Perché È un'idea Nuova E felice Accadono delle cose Molto speciali Ed è vero Che loro siano Veramente Come dire Una Accanto all'altra Cucinate bene Insieme Guardate un po' Questa è un'idea La sentite La sentite come parla Ma anche con la pronuncia Dei piatti È un disastro Forza che devo fare La guacamole Prendimi l'avvocato Che poi dico Proprio io la devo fare Questo guacamole Allora Succede che Voi portate in scena Una vera cucina Operativa Noi cuciniamo Noi cuciniamo veramente Ognuno poi recita Con l'inflessione dialettale Della sua regione Insomma Della sua parte D'Italia E quindi siamo Siamo delle donne Che si sono unite Hanno messo su questo ristorante Adesso ambiscono Alla stella Michelin Insomma Quindi la storia è questa Sì Quattro donne Che decidono di Aprire un ristorante Perché hai visto mai Che arrivi Anzi vogliamo che arrivi Eh però succede La qualunque cosa Come si suol dire Qua vediamo già Tosca Da qui Un momento molto difficile Tu sei con una benda Sull'occhio Eh Perché è successo Di tutto prima Come reagisce la gente A vedere Vogliamo anche dire Che avete fatto Tu vieni Dalla nobile terra di Puglia Ma avete anche fatto Un corso di cucina Sì Vi siete preparate Alla fine la gente Mangia veramente Esattamente C'è uno chef Che ci aiuta Ovviamente Perché non possiamo Far da mangiare Per tutta la gente Che viene Per tutta la gente Che viene No Però È uno spettacolo Culinario Culinario Esatto Esatto Perché Vedi la commedia E poi Mangi anche Fai tutto lì Non c'è neanche Il dopo cena Il tuo accento Il mio accento Un po' così Vedi Paola Tu per esempio No Sia una donna Bellissima Fa un po' impressione No Perché No Nel senso che Uno mi vede Mi vede così E poi dicono Ma io pensavo Tu fossi di Milano Esatto No E invece no Ma perché Perché è bello Parlare perfettamente italiano E conservare C'è quello di guacamole Guacamole Che è questo guacamole Qua con la voglia Delle cose Facciamo le cose pratiche Orecchietta Le cime di rape Queste cose belle Capito Allora pensate che Questo Questo belle ripiene C'è anche una ricetta apposta Lo scrigno belle ripiene Scrigno della penisola italiana Le belle ripiene E infatti è quella Che poi viene servita Al pubblico È complicato da fare Beh ci sono Le cime di rape Pugliesi Stracchino di Pavia E pomodoro pieno Logampano E guanciale croccante Del Lazio C'è un po' di tutto Capito Ecco perché Penisola italiana Le belle ripiene Guarda Questi titoli mega Che danno Da chef contemporaneo Proprio Sì Io Mi sto godendo Tutto e tutto Questo Questo giro d'Italia Che sta facendo anche Con la voce Sella Brescia Ovviamente C'è anche Dico ovviamente Perché Insomma Conoscendo la casa madre Di questa idea E le persone che ci lavorano C'è anche un risvolto sociale Sì Qual è? Abbiamo fatto uno spettacolo Per l'associazione Viva Ale E il ricavato è stato Dato Donato totalmente A questa associazione Per aiutare anche qui La ricerca Esatto E cercare di sconfiggere Queste brutte malattie Ho sentito prima La storia di Sara Prima Che hai intervistato Sono storie che ti toccano Veramente il cuore Quindi tutti Dobbiamo riunirci E fare qualcosa Per la ricerca E per combattere Queste brutte malattie Che purtroppo Affliggono I nostri giorni Che ci toccano Spesso Da vicino Allora Avevo Avevo Pensato Di dare Di dare In ordine Sparso Dunque Roma Fino al 2 dicembre Sono state al teatro Sistina Scusate Se è poco Tournee Fino a gennaio 2019 In teatri italiani Ad Assisi Napoli Bari Torino Genova Cassano Magnago Conegliano Veneto Bologna Cesano Boscone Ferrara Firenze Colle Valdessa Osimo San Benedetto Catania Più giro d'Italia di così Ne sai più di me Rossella Brescia Allora Solare Grazie di essere stata con noi Grazie a te Grazie a voi Grazie E noi ci fermiamo Solo per un attimo Finestre spalancate E torniamo Come si dice Allora Solare Con un bel accento pugliese Prova a dirlo tu Allora Solare Allora Solare Allora Ci vediamo da un attimo Bella Vista